Certamente questa è un'iniziativa che io ho visto nascere dall'inizio perché ho seguito questa manifestazione dal suo inizio ma prima ancora ho promosso Star Cup Unisa per tre anni. È una manifestazione che sicuramente sta dando dei risultati, ha dato degli ottimi risultati nel passato per l'edizione a cui abbiamo preso parte e sono convinto che anche quest'anno avremo delle grosse soddisfazioni. Sì, fra poco proietteremo appunto i risultati, quelli che sono stati ottenuti negli ultimi anni e abbiamo avuto delle cose, delle situazioni estremamente lusinghiere vincendo dei primi premi a livello nazionale quindi abbiamo ottime chance per il futuro. Certamente questo campus consente di ottenere dei risultati da altre parti impensabili perché ci si incontra in continuazione tra docenti di varie aree.